Non sembrano... Si chiude tutto la sfida con il fischio dell'arbitro. Sono entrato in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio. E invece la tua analisi di questa gara qual è Luca? Vincere, vincere, inseguire la vittoria in tutte le partite. È questo lo spirito giusto per andare avanti. La nostra telecronaca termina qui. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Ricambio ringraziamenti. 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 Grazie a tutti.